Jerry Scotti in lacrime! Situazione tragica! Benvenuti a Top 5 News Italia, il vostro canale preferito per le notizie e i gossip più interessanti. Oggi vi porteremo le ultime notizie su Jerry Scotti. Iniziamo subito con l'ultima sfida tra i game show del preserale. Rai, uno con reazione a catena, sta al comando con uno share del 27,3%, mentre Caduta Libera su Canale 5 raggiunge il 16,9%. Questi quiz influenzano il prime time, con Paolo Bonolis e Jerry Scotti che portano avanti il significato delle parole. Mentre Liorni gioca con sinonimi e assonanze, Jerry Scotti mette in mostra la cultura generale dei concorrenti. Jerry Scotti, quindi, piange lacrime a mare perché questa sfida di ascolti potrebbe portare ad una situazione tragica davvero e lui ed il suo programma avere un futuro incerto. Tuttavia, dobbiamo stare tranquilli perché Jerry Scotti non ci lascia mai soli. Tornerà, infatti, ad essere il volto di Io Canto su Canale 5. In questo spettacolo musicale dedicato ai giovani aspiranti cantanti, Jerry sarà al timone. Quest'anno vedremo una giuria e un parterre di coach, tra cui Orietta Berti, Albano, Claudio Amendola e Michelle Hunziker. Questo quartetto d'eccezione supporterà i giovani talenti musicali. Il palinsesto di Mediaset si arricchisce, anche, con Ciao Darwin, che sfiderà The Voice Kids della TV pubblica. Ma prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare tutte le notifiche tramite la campanella. Grazie. Ora, veniamo alla notizia che ha scatenato molte chiacchiere nei giorni scorsi. C'è stato un incontro casuale tra due vecchi amici, Amadeus e Jerry Scotti, in un hotel. Questo ha fatto nascere ipotesi di una possibile collaborazione al prossimo Festival di Sanremo 2024, l'ultimo sotto la guida di Amadeus. Jerry Scotti potrebbe essere il compagno di palco di Amadeus, seguendo le orme di Gianni Morandi dell'anno scorso. Tuttavia, dobbiamo precisare che, secondo le nostre fonti, si tratta principalmente di un gioco tra i due amici. Al momento, non ci sono conferme ufficiali. E non sembra che Jerry Scotti avrà lo stesso ruolo di Gianni Morandi nel prossimo Sanremo. Il Festival del 2024 sarà condotto dai cantanti in gara, che si alterneranno al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus. Tuttavia, non escludiamo del tutto la possibilità di vedere Jerry Scotti sul palco del Teatro Ariston. Sarà interessante scoprire come si evolverà la situazione. E ora, cosa ne pensate dell'ipotetica partecipazione di Jerry Scotti al Festival di Sanremo 2024? Sarebbe un'aggiunta sorprendente al cast o preferireste vederlo in un altro ruolo? Scrivete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguirci su Top 5 News Italia per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e gossip. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!